L'argomento della sostenibilità di proprio ruolo centrale nella missione aziendale. Questo per coerenza deve essere gestito attraverso investimenti che possono insistere appunto su questo argomento. L'azienda ha deciso di percorrere questa via investendo sul water reuse che ha permesso appunto questa riduzione importante degli scarichi e ha permesso di poter avere una carta in più dal punto di vista del dipartimento commerciale e anche da proporre ai clienti. Diciamo che nel nostro caso possono essere molto interessati la parte della grande distribuzione che sta iniziando sempre più a sviluppare un tono della sostenibilità anche da un punto di vista loro proprio di presentazione al cliente finale. Quindi ci può garantire la possibilità di avere una posizione predominante rispetto alla concorrenza.